Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono Glacial Sphere e in questo nuovo episodio andremo ad affrontare i portatori del Pokédex della regione di Unima. Quindi andremo a affrontare Bianco e Nero e vediamo se eventualmente ci saranno altri allenatori da sfidare. Se non sapete chi sia nel portatore del Pokédex o se non sapete bene cosa stia facendo con questa macchina alle spalle di Ash, vi rimando agli episodi precedenti dove vi spiego appunto cosa sia questa macchina, come si si blocca e cosa sono le varie battaglie che affrontiamo in questo momento. Sapete che queste sono le ultimissime battaglie disponibili in Pokémon Fire Ash, questa è proprio la parte finale del gioco, oltre questo non c'è praticamente più niente, quindi siamo proprio in endgame totale e detto ciò quindi andiamo a sfidare, come vedete abbiamo già fatto praticamente rosso, blu, verde, giallo, oro, argento, cristallo, rubino, zaffiro, smeraddo, diamante, perla, platino ed ora tocca a Black, White e faremo anche Blake e Whitley, ok? Faremo questi quattro oggi. Andiamo quindi da Black. Questo posto sembra essere la Lega di Unima. Allora, dov'è l'allenatore? Eccolo qua, eccolo qui nero, il mio nome è Nero. Ho sognato di diventare campione di Unima per nove anni e ho sempre continuato ad andare avanti, per quello sono stato chiamato il sognatore, The Dreamer. Ma perché si riesce da mal posto della Dreamer a Giovanni non tanto adesso? Va bene. Ok, Breviery contro Greninja. Greninja, come ben sappiamo, ha difficoltà solo contro pochissimissimi Pokémon, praticamente contro Shizor e più o meno basta. Quindi iniziare con Greninja è sempre bello. Ora Tula. Per me è Gargantula, quindi mandiamo Tonfan. Bisogna anche cercare di capire chi sono i Pokémon dal loro soprannome. Infatti Tula è Gargantula. Ok, qua andiamo di Heartquake. Signoraggio ci farà relativamente male, infatti. Però ne lo travolgiamo con Heartquake. Poi Costa, Carracosta, questo è facile. Quindi andiamo di Greninja. Ah no, aspettate, Carracosta ho sbagliato allora. Pensavo Crustle e ho sbagliato. Vabbè, a questo punto usiamo Dark Pulse. E va bene comunque. Perfetto, livello 84 per Greninja. Boh. Sì, Boh lo dico io. Chi è Boh? Boh, ma andiamo a Heracross. Boh, davvero. Ah, è un Boar. Va bene. Facciamo Mega Evolver il nostro Heracross e usiamo Heartquake. Super efficace e buono, one shottato. Perfetto, poi Musha. Sarebbe Musharna, quindi lasciamo Heracross. E andiamo di Missile Spillo. Perfetto. Abbiamo sconfitto anche Nero. Questo non mi fermerà. Questa battaglia è stata fantastica, dobbiamo farlo un'altra volta. Lo faremo. Oddio, non subito però. Devo passare qui per tornare a casa, sì. Perfetto. Ed ora andiamo con White. Questo posto sembra Nimbasa City. È bella domanda. Dove sarà? Quindi White sarà di qui, all'entrata del parco divertimenti. Vediamo. No, poi qui non c'è nessuno. Allora, qui sotto no. Allora è da un'altra parte. Cerchiamola. Qui sotto? No, c'è Stamfisk. Vediamo un po' dove si trova. La nostra White che si nasconde. Nemmeno di qui. Eccola, trovata. Il mio nome è White. Ho sempre sognato di permettere ai Pokémon che amo di, insomma, di scegliere le opzioni che vogliono loro. E I've since achieved the dream. Ok, ho appena ottenuto qualsoni. Quindi mi chiamano The Dreamer. Anche lei. Perfetto. Va bene. Amanda. Come Amanda. Va bene. Andiamo di Ice Beam. Ed ecco che il nostro Greninja diventa Form Ash. Poi Dorothy. Ma che non mi sono, ma scusatemi. Ma poi farò capire che Pokémon andrebbe a mandare. Boh, andiamo in Heracross. Stamfisk. Ok, va bene comunque, dai. Andiamo in Earthquake. Dorothy. Ma come si fa a chiamare Dorothy uno Stamfisk? Barbara. Boh. Ok. Devo cambiare Pokémon e mandare Donphan. Ok. Ok. Contro Barbara usiamo Rock Slide. Poi Solly. Ah, è solo Sysos. Per questo potevamo arrivarci, effettivamente. Andiamo di Double Edge. Perfetto. E Darlene. Ok. Contro di lui possiamo usare Poison Jeb. Super efficace. Ed infine Nancy. Oddio, Alomomola, che merda di Pokémon. Double Edge. Guarda quanti HPA. Non ha alcun senso. Grazie, mi cura pure. Cioè, è completamente rincoglionito questo Pokémon. Boh, va bene. Abbiamo sconfitto anche Bianca. Bianca, forse, meglio. Mi sono comportata bene, assolutamente sì. Non sono molto una combattente. Scusami se non è stato abbastanza. Ma non ti preoccupare. Ma non ti preoccupare. Ora devo trovare la piastra per tornare indietro. La piastrella. La pedana. Allora, dov'è, dov'è, dov'è? È bello che la mettono chissà dove. Andiamo a stare di qui. Eccola qua, trovata. Ok. Andiamo a sfidare ora. Blake e Wheatley. Questo posto sembra Birbank City. Ok, qui abbiamo Gliscor. Abbiamo un po'. Caputops addirittura. Escavalier. Questa è la pedana per tornare indietro. Qui abbiamo Blake. Il mio nome è Blake. Ho un forte senso della giustizia. E faccio il mio meglio per fermare i malvagie. Per questo mi chiamano The Arrester. Ok, non so come tradurre in italiano Arrester. Non ci proverò nemmeno. Tra l'altro a Keldeo. Forse, perché anche prima c'era Reshiram, ma non l'ha usato Reshiram. Quindi. Tiriamo giù Dewot. Poi a Kelden. Ok, sì, questo è Keldeo. Non mi ricordo minimamente di che tipo sia Keldeo. Forse è tipo Acqua. Andiamo a Sceptile. E andiamo di Leaf Blade. Perfetto, poi Klee Scept. Sarà Gliscor secondo voi? Boh, ma andiamo a Greninja. Eccolo qui. Gliscor. Surf. 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 Perfetto. Poi Escavalier. Contro Escavalier, dai, tiriamo fuori un po' il nostro Charizard. La punta di diamante del team. E andiamo di Flamethrower. Perfetto. Poi Kabutoth, che sarebbe Kabutops. Per cui mandiamo Sceptile. Vai, Leaf Blade. Perfetto. Ed infine Genesect. Cambiamo Pokémon e mandiamo Heracross. Mega Evoluzione e Close Combat. Perfetto, tirato giù. Abbiamo sconfitto anche Blake, che sarebbe il protagonista di Bianco Nero 2. Ti sei fatto bene. Sembri addirittura migliore di me. Assolutamente sì. Allora. Ora, tocca all'ultima allenatrice per questo episodio. Ovvero, Whiteley Wheatley. Questo posto sembra Asperty a City. Ah, che bello quanto lo mettono qui di fianco. Il mio nome è Wheatley. Sono riuscita, ok, ad aggrapparmi a credenze e filosofia. To hold on to the beliefs and philosophies of the origin of Team Plasma. Ok. Sono chiamata liberatrice. Perché si è aggrappata appunto all'idea originale del Team Plasma, ovvero quella di liberare i Pokémon. E quindi infatti lei li ha liberati tutti, non ce li ha più, ne ha due. Effettivamente ha senso. Andiamo di extra senso. Perché ha senso, giustamente. Ok, Hustle Gore. Hustle Gore mando... Ciao, Rizzartai. Tanto. Facciamole capire che magari dovrebbe liberare anche Hustle Gore. Dopo questa arrostita qui. Flamethrower. Perfetto, abbiamo battuto anche Wheatley. Ci sono andate troppo forte, troppo dura, ma assolutamente no. Spero che di tutti sia divertito. Non sono una gran combattente, perché questo l'ho notato. Anche perché non è Pokémon. Bene, detto ciò quindi, io vi ringrazio per aver seguito questo video. Fino alla fine abbiamo sconfitto i portatori di Pokédex della regione di Unima. Nelle prossime puntate andremo a sconfiggere gli altri portatori di Pokédex. E quindi vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto e di commentare. E di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video. Al prossimo video.